Ennesimo furto al tennis club in via Pasquale Cicogna. Questa volta è toccato a una macchinetta per fare il caffè per uso domestico ad essere sottratta. Macchinetta e cialde. Abbiamo detto ennesimo in quanto l'attività è spesso soggetta a furti e ad atti di vandalismo. Ad essere sottratte sono sempre cose di piccolo conto ed è più il danno che subisce la struttura del valore effettivo di ciò che viene rubato ed è sempre maggiore la desolazione che si prova davanti a fatti simili. Ci si rende conto che il territorio è succube di individui che si muovono all'alba per commettere reati. Questa mattina il noto Tiziano Salvagno è stato visto aggirarsi all'altezza della cisterna a Borgo San Giovanni vicino alla ferrovia con una bicicletta apparentemente nuova ed entrare nel centro sociale, ciò alle 5 e mezza di mattina e ci si chiede, visti i trascorsi del Salvagno, di chi sia quella bicicletta e chi la stia piangendo. Sembra che di individui sospetti a queste ore antelucane ce ne sia più di uno. Il via vai maggiore è composto da pendolari che si stanno recando sui luoghi di lavoro o a prendere il bus, ma alcuni sono nulla facenti, sfaticati, il cui scopo nella vita è arrecare danno a quell'altrui. Pescheria CAM Vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12.30. Gli esperti operatori della Pescheria CAM sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria CAM, con sede all'isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 0415533591.